Lode ad Allah, Signore dei mondi, che disse nel Sacro Corano, O voi che credete vi è prescritto il digiuno come era stato prescritto a coloro che vi hanno prescritto, forse diverrete timorati. È testimonio che non c'è Dio che Allah, è testimonio che il nostro Maestro e Profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero, che disse in un hadith sharif, uno dei suoi detti che ha digiunato il mese di Ramadan per fede sincera, cioè convenzione, e sperando in una ricompensa di Allah, allora tutti i suoi peccati passati saranno perdonati. Bacce e meredizione di Allah sul messaggero Muhammad, sulla sua famiglia, su tutti i suoi compagni e su quelli che li seguono con carità fino al giorno del giudizio finale. Seguitando in merito, una delle grazie che Allah ha conferito ai suoi servi sono le stagioni del bene, in cui i favori sono consecutivi, le misericordie vengono dal cielo, i premi sono ingranditi e duplicati. Disse il profeta, bacce e meredizione di Allah su di lui, Allah, l'Altissimo, vi concede dei favori nei giorni della vita mondana, cercate di prenderli perché se li prendete non sarete mai miserabili. Una delle stagioni più benedette e preferite è il mese benedetto del Ramadan, e il picco dei mesi è il più grande di loro. I suoi giorni sono i giorni migliori e le sue notti sono le più chiare e pure. Il profeta, bacce e meredizione di Allah su di lui, sentiva la gioia per l'arrivo del Ramadan e l'annunciava ai suoi compagni che Dio li benedica. Si narra che Abu Huraira, che Allah sia soddisfatto di lui, disse, il messaggero di Allah, bacce e meredizione di Allah su di lui, disse, vi è venuto il mese benedetto di Ramadan. Dio ti ha aggiunto di digiunare, e quando arriva Ramadan vengono aperte le porte del paradiso e chiuse quelle dell'inferno, e i demoni vengono legati. Nel Ramadan c'è una notte meglio di mille mesi. Miserabile è colui che è privato il perdono di Allah in questa notte. I compagni del profeta che Allah li benedica invocavano Allah di farli rimanere in vita fino al mese di Ramadan e di dargli la forza per migliorare le loro orazioni in Ramadan. Di questo disse Ibn Ragabba che Allah abbia misericordia sulla sua anima. Tanti buoni fedeli che Allah abbia misericordia sulle loro anime invocavano Dio per sei mesi per farli raggiungere il mese di Ramadan. Poi brighavano Allah per altri sei mesi per accettare le loro orazioni. Yahya ibn Abi Kathir riferì tanti delle loro invocazioni tra le quali Dio fammi raggiungere Ramadan, fa Ramadan raggiungere a me e poi riceve Ramadan da me e accetti le nostre orazioni alla fine del mese. Si narra che già per figlio di Abdullah che Allah si compiaccia di loro disse il profeta pace e benedizione di Allah su di lui è andato a salire il bulbito. Sul primo gradino ha detto Amen e poi sul secondo gradino ha detto Amen e sul terzo gradino disse Amen. I compagni hanno chiesto O messaggero di Dio ti abbiamo sentito dire Amen tre volte perché? Ha risposto al profeta Baccia e benedizione di Allah su di lui Quando sono salito il primo gradino è venuto da me l'arcangelo Gabriele Baccia su di lui Mi ha detto miserabile è colui che ha raggiunto Ramadan ed è privato del perdono di Allah in questo mese Perciò ho detto Amen Mentre ci prepariamo a ricevere questo ospite d'onore fra pochi giorni dobbiamo prendere del messaggero di Allah Baccia e benedizione di Allah su di lui e suoi compagni un modello da seguire nell'adorazione e nelle orazioni in questo benedetto mese E il musulmano dovrebbe rievocare la buona intenzione di rinnovarla Perché Allah, l'onipotente, giudica gli adoratori in base alla buona intenzione che è il segreto della citazione e dell'adorazione Di questo disse il nostro profeta Baccia e benedizione di Allah su di lui La ricompensa dell'azione dipende dalle intenzioni e ogni persona riceverà i premi secondo ciò che ha voluto Quindi chiunque emegra per l'amore di Allah e del suo messaggero la sua emigrazione sarà considerata come per Allah e il suo messaggero e chiunque emigrerà per benefici mondani o per una donna da sposare la sua emigrazione sarà considerata a favore di se stesso Amo huraira che Allah sia soddisfatto di lui e il messaggero di Allah Baccia e benedizione di Allah su di lui disse Dio, l'onipotente, disse Ogni azione del figlio di Adamo Adamo gli appartiene eccetto il digiuno che appartiene a me Ed lo ne do ricompensa Il digiuno è un'armatura e quando sia giorno di digiuno per uno di voi non nutra propositi osceni né voceferi E se qualcuno lo angiuria o lo combatte dica O sto digionando E per colui nella cui mano e l'anima di Muhammad l'alito cattivo che promana dalla bocca di colui che sta digionando è migliore davanti a Dio del profumo del moscheo Il musulmano nel mese di Ramadan dovrebbe aumentare i lati di culto e le buone azioni rispettando i brecetti del profeta Baccia e benedizione di Allah su di lui e quello che stava facendo nella vita sua come fare presto l'Eftar e il basto immediatamente successivo al tramonto De questo disse il profeta Baccia e benedizione di Allah su di lui La mia comunità si comporterà bene Fintanto che si affretterà al futuro l'Eftar e ritarderà il suhura Cioè il basto prima dell'alba Disse anche il profeta Baccia e benedizione di Allah su di lui Berenete il suhura Perché nel suhura c'è benedizione e prosperità Non dobbiamo essere eccessivi nel nostro cibo e vivanda Di questo Allah disse Mangiate e bevete Ma senza eccessi Che Allah non ama chi eccede E disse il profeta Baccia e benedizione di Allah su di lui Nussun uomo riempie Un contenitore Beggio del suo stomaco Alcuni bocconcini Che li tengono la schiena diretta Sono sufficienti per lui Se deve Allora dovrebbe mantenere Un terzo per il cibo Un terzo per bere E un terzo per il suo respiro E' meglio per i ricchi capire e sentire i bisogni dei poveri Durante questo benedetto mese Il Ramadan è il mese della generosità E il mese della misericordia Della dolcezza e del buon trattamento Verso le orfani, le vedove e verso i poveri Con tutte le forme della solidarietà E' una cosa che darebbe a loro la gioia e la felicità Particolarmente nel mese di Ramadan Come faceva il nostro profeta Baccia e benedizione di Allah su di lui Si narra che Ibn Abbas Che Dio si compiaccia di lui e di suo padre Disse Il profeta era l'uomo più generoso E aveva molta generosità Quando incontrava Gabriele E quando gli veniva tutte le notti di Ramadan Per inseriarlo i versetti del Sacro Curano Quando Gabriele lo incontrava L'inviato di Allah Baccia e benedizione di Allah Su di lui Era certamente più generoso Del vento portatore di pioggia La generosità del Ramadan Non consiste solamente nel dare i soldi ai poveri Ma il suo significato è più ampio di quello Essa comprende la carità La compassione L'affetto reciproco E la cura dei diritti e dei doveri dell'altri Inoltre il musulmano deve pericoparsi Di fare più atti di culto Come leggere il Corano E contemplare i suoi significati Deve fare la preghiera del Taraweeh Cioè la preghiera della notte De questo disse il profeta Muhammad Chi fa la preghiera nella notte di Laylat al-Qadr Cioè la notte del destino Con una fede sincera E la volontà di guadagnare il bordone di Dio Allora tutti i suoi precedenti E futuri peccati saranno perdonati Si narra che Aisha disse Il messaggero di Allah Baccia e benedizione di Allah Su di lui Stava facendo la preghiera notturna volontaria Nella sua stanza Il muro della stanza era piuttosto basso E la gente ha visto il corpo del profeta Baccia e benedizione di Allah Su di lui Così alcuni lo hanno seguito Nella sua preghiera E il mattino dopo hanno commentato La notte successiva Il profeta Baccia e benedizione di Allah Su di lui Si è alzato per la sua preghiera notturna E al popolo hanno seguito la sua preghiera E l'hanno fatta per due o tre notti Finché una notte Il profeta Baccia e benedizione di Allah Su di lui Non è uscito Per fargli la sua preghiera notturna E il mattino dopo La gente gli ha parlato di questo Lui ha detto Avevo paura Che la preghiera della notte Sarebbe stata obbligatoria A vostro carico E non avrete potuto farla Omar ibn al-Khattab Che Allah si è soddisfatto di lui Decise durante il suo califato Di unire tutti i musulmani Affinché brigano Dopo un singolo imam Si narra che Abdurrahman ibn Abdul Qare Disse Sono andato con Omar ibn al-Khattab Che Allah si è soddisfatto di lui Una notte E abbiamo scoperto Che in una notte di Ramadan Quando andavamo alla moschia Che la gente brigava Brigava in gruppi separati Alcuni brigavano da soli E altri in piccoli gruppi Poi Omar ha detto Se sarà meglio Poi Raduneremo tutta la gente In un gruppo Ed ha radunato un gruppo Guidato da Uba'i ebn Qab Che Allah si compiaccia di lui E il fatto che rifletteva Il suo interesse per la preghiera notturna E l'unione dei musulmani D'altra parte Il vero digiuno È quello che fa il musulmano Astenirsi Da qualsiasi disobbedienza Da qualsiasi peccato E dall'ingiustizia Quanti uomini Non guadagnano Dal loro digiuno Che la sete E la fame Di questo Disse il profeta Baccia e pretenzione Di Allah su di lui Ci sono Dei digiunatori Che non avranno Altro effetto Del loro digiuno Che la fame Senza ricompensa E ci sono degli uomini Che passano le loro notti In piedi In preghiera Che non avranno Altro effetto Della loro preghiera Che la veglia Senza ricompensa E il profeta Disse anche Colui che non Rinuncia a dire Delle menzogne Ed agire Inganevolentemente Durante il mese Di ramadan Allah non ha nessun bisogno Che lui rinunci Al suo cibo E alla sua Vivanda E disse Jabber Ibn Abdullah Che Allah Si compiace di lui E di suo padre Quando digiuni I tuoi orecchi I tuoi occhi E la tua lingua Devono digiunare Anche loro Ed astenersi Dalle menzogne E dalle cose Proibite Non devi Umiliare il servo E nel giorno del digiuno Deve essere Saggio e calmo E non rendere La giornata del digiuno Come qualsiasi altra Giornata della vita Quotidiana E il musulmano Si rende conto Che il suo digiuno Deve essere Un vero digiuno Per guadagnare Il buon risultato Desiderato La pietà Verso Allah L'Altissimo Dobbiamo renderci conto Che il mese sacro Del ramadan È un mese Di lavoro Duro E diligente Non dobbiamo Ridurre il nostro Sforzo Del ramadan Rispetto ad altri mesi Che le Con le pretese Della fatica E della stanchezza Molte persone Si inclinano Alle enerizie E alla pigrizia Passando tante ore In sonno Durante le giornate Del ramadan E il fatto Che potrebbe Ostacolare L'interesse Della gente In questo mese sacro E tutto questo Contradisce Lo scopo Del digiuno Per lo quale Fu prescritto Mostrare La pietà Di Allah Verso Allah L'Onipotente Disse Voi che credete Vi è prescritto Il digiuno Come era stato Prescritto A coloro Che vi hanno preceduto Forse Verrete Timorati La pietà Non si raggiunge Con la pigrizia Ne Con l'enerizia Ma con più Adorazione E lavoro L'ialtà E timezza Di Allah Goliificato Sia lui Se il tumore Di Allah L'Altissimo È una delle caratteristiche Della persona Che digiuna Deve essere Riflesso Nel O dall'adambimento Del Diritto Al lavoro Per chi Osserva La tua preghiera Il digiuno L'astinezza Dal cibo E dalle vivande E lo stesso Che osserva La tua conformità Al diritto Al lavoro O alla tua Negligenza Il musulmano Deve nutrirsi In modo Lecito In modo Che le Petizioni Siano accettate Perché È uno Dei principi Più importanti Per cui Il digiuno Dovrebbe essere Interessato Deve capire Che per Ricevere Lo stipendio Deve rispettare Le condizioni E i termini Del lavoro Sia statale O privato Dico questo E chiedo Perdono Ad Allah Lode Ad Allah Signore dei mondi Pace E benedizione Di Allah Sul suo messaggero Muhammad Sulla sua famiglia Su tutti i suoi Combani E su quelli Che li seguono Con carità Fino al giorno Del giudizio Finale Fratelli Dell'Islam Il lavoro Il lavoro E il culto Sono Insiparabili Il culto È un lavoro È un lavoro Sincero Fatto per il bene Per Allah L'Altissimo È una parte Del culto De questo Disse Allah L'Altissimo Di Agite Allah Osserverà Le vostre opere E le Osserveranno Anche Il suo messaggero E i credenti Presto Sarete Ricondotti Verso Colui Che conosce Il visibile E l'invisibile Ed Egli vi Informerà Di quello Che avete Fatto Studiando La Biografia Studiando La biografia Del profeta Baci e benedizione Di Allah Su di lui E quella Di combani Illustri Dopo di lui E la storia Islamica Ci rendiamo conto Che il mese Del ramadan È un mese Di lavoro E di produzione E inoltre Tante delle vittorie Islamiche Furono fatte Durante questo Mese sacro Questo è davvero Il mese Delle vittorie E delle conquiste Il ramadan I musulmani Vensero La grande battaglia Di Badr Che fu una battaglia Tra il giusto E l'ingiusto Allah Diede ai musulmani Una vittoria Abbagliante Con il suo sostegno Nonostante Il loro piccolo Numero E la mancanza Di attrezzature Di questo Disse Allah Allah Già vi Soccorso Allah Vi Soccorse Abadr Mentre eravate Deboli Temete Allah Forse sarete Neconscienti Quando Dicevi ai Credenti Non vi basta Che il vostro Signore Faccia scendere Il vostro In vostro aiuto Trimila Angeli Anzi Anzi Se sarete Pazienti Ibi Quando I nemici Verranno Contro di voi Il vostro Signore Vi manderà L'ausilio Di cinquemila Angeli Guerrieri E Allah Non Ne fece Altro Che un Annuncio Di Gioia Per voi Affinché I vostri cuori Si rassicurassero Poiché la vittoria Non viene Che ad Allah L'ecilso E il saggio Durante il mese Di Ramadana Fu Conquistata La Mecca Che fu Una grande vittoria Che Allah Diede al profeta Muhammad Baccia e prendizione Di Allah Su di lui E ai fideli Omigliando E messa Credenti E gli Idulatri Nei tempi moderni C'era la vittoria Del decimo Di Ramadana Il 6 ottobre Avvenuta Con l'aiuto Di Allah L'Egitto Ha riconquistato Le sue terre E la sua dignità Lo slogan Dei soldati Egiziani Era Allah E grande Continuavano A digiunare Brigavano Di notte Leggevano Il Corano E invocavano Dai loro cuori Lì La vittoria Abbaliante È divenuta Rialtà E gli assalatori Sono stati Scacciati I soldati Egiziani Difendevano La religione La patria La terra L'onore Questo Aveva Un buon senso Morale Per Chiunque Pensasse Di attaccare L'Egitto Quindi Dobbiamo Avere lo spirito Di ramadan Per ottenere Vittoria In tutti i settori Della nostra vita E per rafforzare Il bilastre Della giustizia Del diritto Per proteggere La terra L'onore E la dignità In modo Che la nazione Riacquisti La sua posizione E il suo prestigio Tra le altre comunità E popoli Questo dovrebbe Essere aggiunto Solo con l'unione Delle file Della parola Della parola Adottare Un unico obiettivo Realizzarlo Con il lavoro Duro E perfissionato Fare il bene A tutta la gente O Allah Ci benedica Il mese di Shaban E ci dia L'opportunità Di vivere Il mese di ramadan E accettare Le nostre Buone opere Grazie dell'ascolto Fratelli musulmani